Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato... Non aveva ancora 15 anni quando è salita sul palco per il suo primo comizio. Questo succedeva a Bari nel 1945. Stiamo parlando di Anna Tonon, la nipote di Rita Maierotti, la donna a cui la Cigelle di Bari ha intitolato la Fondazione. Anna, raccontaci l'impegno della nonna nelle lotte per l'emancipazione non solo delle lavoratrici ma dell'intera classe operaia. Mia nonna, la sua vita è stata tutta consegnata alle lotte, intanzitutto per l'emancipazione in generale, le lotte per la cultura, l'importanza della cultura. E attraverso la cultura l'importanza anche di saper valutare chi appoggiare e chi non appoggiare. Soprattutto gli operai, la classe operaia in generale, insomma. Non a caso poi si è sposata con Filippo D'Agostino. Anche perché lei, essendo una maestra elementare e avendo girato tutta l'Italia in quanto figlia di un garibaldino, il clero era naturalmente, non andava tanto d'accordo con i garibaldini, mentre mia nonna era innamorata del suo padre, mangia preti e roba del genere, lei è stata punita tutta la sua vita lavorativa ed è stata mandata praticamente in moltissimi posti in Italia i peggiori possibili come punizione. Così imparava a permettersi di essere femminista, lei era una femminista antelittera decisamente, allora le chiamavano suffragette, ma insomma quello era il fatto. Parità, parità e capacità, possibilità di saper valutare le cose e operare di conseguenza. E fra questi luoghi di punizione è capitata anche la Puglia? Tra i luoghi di punizione, dopo essere stata Gonzaga, Mantua, tutta quella roba lì, piano piano l'hanno mandata sempre più giù, sempre più giù, anche perché consideravano il Meridione un posto tremendo, come d'altro non è che ancora adesso ci siano dei cretini che la pensano così, scusa il termine perché non ce ne sono altri adatti, e l'hanno mandata in Puglia, fra l'altro lei era vedova con due ragazzini piccoli e andava in bicicletta perché era a 20-25 km dalla scuola e i preti, le donne si mettevano in parrocchia quando lei passava la mattina con i suoi bambini, uno davanti e uno di dietro e le tiravano barato di pomodoro dicendo la femmina in bicicletta, la femmina in bicicletta aizzati dai preti locali, ma lei passava a due o tre paesi per andare a insegnare. Questo naturalmente invece che smontarla, dato che era una donna tenace, fortissima, io poi la conosco molto bene, le dava forza, le dava un motivo in più per capire che stava lottando nella parte giusta. Quindi tu lei ricordi come una donna forte e determinata? Era una donna forte e determinata, severa, nello stesso tempo però capace di grande generosità. In fondo lei tutta la sua vita l'ha spesa insieme col nonno Filippo per gli altri, ha sacrificato tantissimo, ha avuto problemi di tutti i tipi, prigione, confino, insulti, è stata in prigione anche a Bari. Infatti lei ha fatto una grandissima lotta per le donne del tabacco, mi diceva, lei mi raccontava di queste tabacchine che le volevano un bene pazzo, tant'è che quando io sono tornata, quando io sono venuta a Bari, io non ero mai stata a Bari nel 1945, sono stata lì alcuni mesi, la nonna ha fatto un giro di conferenze da Andrea Barletta, siamo stati ospiti di Vittorio perché di Vittorio era stato affiancato dai nonni e convinto a passare al Partito Comunista, infatti si è iscritto proprio per amore dei miei nonni. E la portavano, addirittura mi ricordo ad Andrea, era in un piccolo calesse, hanno staccato il cavallo e la portavano a mano il carretto, proprio aveva una venerazione. Queste donne del tabacco, ancora o loro o le figlie, io mi ricordo che proprio quando parlavano lei parlavano di Giovanna d'Arco. A Bari 70 anni fa, quando gli alleati intensificarono i bombardamenti e il fascismo si avviava al suo epilogo, le donne ebbero il coraggio di contestare la guerra nelle campagne, ma anche nelle città e perfino nelle chiese, manifestando il loro dissenso per un conflitto che aveva impoverito il paese, aveva sottratto loro i propri cari, quindi padri, mariti, figli, fratelli. Tua nonna ne fu l'esempio? Decisamente. Mia nonna non era a Bari in quel periodo lì, eravamo a Roma, perché non so se tu sai che noi eravamo proprio nel posto dove si è svolta il peggiore avvenimento dell'8 settembre quando hanno ucciso un sacco di nostri ragazzi bersaglieri 18 anni, proprio all'arma bianca, sgozzati. Il comando tedesco era sotto casa. Tu sai che ho fatto mettere una pietra d'inciampo dove abitavamo noi, perché ricordino che da lì è uscito un eroe che era Filippo D'Agostino e lì passavano, c'era questa stazione che si chiamava allora Hitler, era stata fatta in carta pesta perché dovevano nel 1938 fare una grande cosa e da lì passavano tutti quelli che deportavano, perché non li portavano direttamente dalla strada che andava la stazione, li portavano in questa stradina che si chiama Bartolomeo Bossi per portarla a questa stazione che è diventata poi la stazione ostiense, dato che è la zona ostiense, e lì sotto c'era il comando tedesco, quindi non era a Bari. Certamente mio nonno mentre c'era il comando tedesco era dentro la porta a San Paolo, perché lui era uno dei dirigenti del comitato di liberazione di Roma e stava dando le armi ai partigiani che dovevano opporsi ai tedeschi l'8 settembre. C'è un aneddoto che ricorda tua nonna anche come donna fragile, con magari qualcosa di diverso dall'immagine che ha avuto nella sua vita professionale, politica, culturale. Ricordi qualcosa che ti lega a lei affettivamente e da cui viene fuori proprio la sua umanità come donna che ha dovuto anche sopportare magari delle angherie o comunque è stata la donna, la nonna che tutti noi abbiamo? Lei era fragile come tutte le donne sotto sotto, anche quelle grandi fati, anche io che sembro un macigno, dopo sono sensibilissima e delicatissima e vulnerabile. Posso dirti, ecco mi è venuto un flash, so che lei faceva le calze di lana per Gramsci, perché loro, mio nonno è stato sia a Ustica che a Ponza in confino con Gramsci e Gramsci aveva tanti dolori, aveva dolori reumatici, soffrivano così e mia nonna aveva anche insegnato a mio padre a fare queste calze perché le ne mandavano calze e maglie di lana, per esempio questa era una forma di donna, di madre, diciamo così. Per quanto mi riguarda lei aveva due aspetti, lei era una maestra montessoriana quindi aveva un modo di insegnare che allora non si conosceva quasi, infatti lei ha avuto anche degli epistolari con la Montessori e altri e praticamente lei essendo montessoriana mi ha rovinato un po' la giovinezza perché mi ha fatto fare la prima a 4 anni e la seconda a 5 anni. A 6 anni si poteva entrare nelle scuole pubbliche però io dovevo entrare in terza elementare quindi è stato chiesto un permesso, sono entrata in terza elementare e ho potuto entrare nelle scuole pubbliche. Allora ecco la nonna e la mamma mi ha preso da una parte e mi ha detto, avevamo una grande toilette con uno specchio molto grande, mi vedevo a figura intera e mi ha detto senti tu sei abituata in un certo modo, loro erano degli intellettuali quindi io vivevo un certo tipo di vita culturale, mentre io stavo andando in una scuola molto, allora era un po' di borgata diciamo così, dove c'erano i figli dei contadini, dei venditori dei mercati generali, meridionali, non meridionali, gente analfabeta e i figli dei facchini del porto fluviale e delle lavandaie che lì lavoravano e c'erano molte lavanderie, quindi lei sapeva che io sarei andata in un ambiente dove non parlavano neanche come me e mi ha detto ricordati che quella è una proiezione della società, è una piccola società, quindi puoi trovare le persone più varie, tu devi farti trovare preparata e devi tu adattarti al loro linguaggio perché tu hai il dovere di essere capita, proprio perché sei un po' la bimba prodigio, tu non hai nulla in più degli altri e devi farglielo capire, non li devi far soffrire. Questo è un grande insegnamento. E questa era mia nonna, però era anche severa, perché lei mi ha detto sempre davanti a questo specchio, se tu ti comporterai bene, guarda tu devi parlare con te la sera prima di andare a letto, non devi parlare con me o col nonno, vai davanti a questo specchio, se ti sei comportata bene, ti guardi negli occhi e ti stignimi, tu avrai il sonno del giusto, se invece non ti sei comportata bene, cara purtroppo potrà anche capitarti di avere un po' di insonnia. E io da quel giorno sono offerto di insonnia perché non mi sono mai comportata del tutto bene. Quanto tempo hai vissuto, quanti anni sono stati quelli in cui hai vissuto con tua nonna e tuo nonno? Sono andata dai nonni che avevano poco più di tre anni e sono stata con la nonna fino a che è morta nel 60, me la sono portata dietro, è sempre stata con me e con il nonno fino a che l'hanno portato via nel 44. Nel campo di concentramento? Purtroppo, quella per me è stata una cosa, per me erano mia madre e mio padre, io ho sofferto molto l'abbandono della mia famiglia perché quando sei bambini non si può capire come io ho capito dall'adulta che io ero stata molto fortunata ad essere stata adottata da due persone di quel livello, però mi è mancata la mamma, mi è mancato anche un po' il papà e quindi io soffrivo perché mi domandavano ma tu sei orfana che non si vede mai né tuo papà né tua mamma? Ecco questo è quanto, però sono i miei genitori, quando il nonno è morto, quando il nonno è è andato via, io dopo ho saputo dopo due anni che era morto e noi abbiamo saputo molto dopo, per tre anni, io mi sono sognata quasi tutte le notti che mi incontravo con il nonno in un certo posto di Roma, c'è un ponte di ferro a Roma che si chiama Ponte Sisto ed era un ponte fatto dal Papa Sisto qualche cosa, quinto mi pare, e si pagava un soldino per attraversarlo perché era del Vaticano, si accorciavano di, non si andava a Ponte Garibaldi o all'altro, però si doveva pagare un soldino, io mi divertivo tantissimo con lui, facevamo lunghe passeggiate fino al ponte, io mettevo il soldino, attraversavamo il ponte e poi tornavamo a casa, e io ho sognato per tre anni che ci vedevamo dall'altra parte del ponte e forse io pensavo che non avesse il soldino per venirmi incontro. Lui era addirittura in certe cose un po' femminile, per esempio quando venivano gli ospiti in casa nostra, questo ti dice il quadro, ci portavano delle caramelle, dei cioccolatini, dei pasticcini e mi avevano insegnato a offrire su tutto a quelli che erano lì, molte volte non mi restava niente ufficialmente, il nonno prendeva sempre due cose perché una faceva finta di prenderne una e ne prendeva due, perché sapeva che in alcuni, mia nonna lo faceva a scopo educativo questo, perché vengono prima gli altri, lei mi diceva sempre ricordati che tu sei gli altri degli altri e quindi rispettali, così puoi esigere rispetto e tante volte dopo mi allungava il cioccolatino, tanto sapevo che tu rimanevi senza, questo la nonna non l'avrebbe fatto. Insieme con sua moglie Rita Maierotti, una delle poche donne militanti socialiste italiane, si intreccia con i movimenti di lotta contadina ed operaia nel primo dopoguerra in Puglia, anche la figura di tuo nonno Filippo D'Agostino. Si sono conosciuti con la politica, socialisti, il nonno poi era stato nominato per essere deputato, se non che c'era il capo dei contadini, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, è un nome strano comunque, era il capo dei contadini e lui ha rinunciato alla sua deputazione per dare l'immunità a questo capo dei contadini che poi è uscito con l'immunità parlamentare perché è stato eletto al posto di nonno, quindi si sono conosciuti anche in questo frangente. Lei lo appoggiava in queste cose, non era un'ambiziosa, lei era ambiziosa che venisse il sole dell'avvenire, mi diceva sempre tu lo vedrai, io non l'ho ancora visto, ma insomma lei è morta e per fortuna non credo che lo sappia perché io non ci credo all'aldilà, quindi non ho problemi. D'Agostino fu anche protagonista nell'agosto del 22 della difesa insieme a Giuseppe Di Vittorio della Camera del Lavoro di Bari dall'aggressione delle squadracce fasciste. Ti è stato raccontato qualcosa di quell'episodio? Guarda, mi è stato raccontato, tu devi anche pensare che io ho 84 anni e quindi ho tutta la mia vita nella mente, oltre che quella che lei e lui mi hanno raccontato, lei in particolare, io ti darò degli appunti dai quali tu se vuoi puoi trarre, dei nomi, dei fatti, delle date, perché onestamente ricordo che ne hanno parlato, come ricordo che certe volte parlavano tanto di un certo capitano Giulietti, ma non so neanche di cosa parlasse, penso che fossero dei marittimi, altre lotte, insomma lotte operaie, lotte di chi stava male, quindi io ho conosciuto Di Vittorio ma non mi ricordo delle cose così specifiche, però so che ci sono e te ne posso dare delle documenti. Durante quell'aggressione, l'occupazione della Camera del Lavoro, la moglie di Giuseppe di Vittorio partoriva suo figlio, Vindice, proprio mentre suo marito cercava di difendere l'intervista che abbiamo fatto l'anno scorso a Baldina di Vittorio, lei lo ricordava perché lei era poco più che una bambina di 5 anni, quindi questi ricordi veramente è un po' come i tuoi, ecco. Vedi, anche nel 22, mentre mio nonno lottava per la politica eccetera, mia nonna è stata assalita dai fascisti che l'hanno incendiato la casa, quindi lei aveva due nipoti ospiti suoi occasionalmente, per fortuna che tutti i coinquilini eccetera l'hanno aiutata mettendo dei materassi nel cortile e lei da Red du Chausse, cioè un piano e mezzo, si è buttata giù dalla finestra e quando si è messa una, per fortuna c'erano dei compagni che l'aiutavano perché erano molto uniti allora i compagni, era come adesso che litigano troppo, si è messa un foulard e lei, c'è che era bruna, ecco l'ho fatta vedere come era quando è arrivata in Puglia più o meno era così e quando dopo due ore è andata in macchina, l'hanno portata e non mi ricordo dove, quando si è tolta questo foulard ha i capelli tutti bianchi, lei in due ore ha fatto i capelli bianchi per la grande paura e è anche diventata un poco sorda perché sparavano, urlavano e lei si è spaventata e da allora è stata sempre un pochino offesa l'udito. Filippo D'Agostino e Rita Maierotti fondarono nel 21 il Partito Comunista, cosa hanno lasciato nell'esperienza politica e culturale italiana? Hanno lasciato la capacità di trarre dalla loro resistenza la forza di passare agli altri perché continuassero la lotta, io ricordo per esempio quando, sai che la non è stata fra le fondatrici dell'Udi e fra le fondatrici di Noi Donne e poi siccome lei faceva anche la giornalista nella vita, ha scritto tantissimi articoli, ci sono alcuni che parlano addirittura del femminicidio, ci sono alcuni che parlano e li trovi, sono o alla fondazione nostra, quella della nonna oppure all'istituto Gramsci, io ho quasi tutti i documenti che la riguardavano li ho portati lì perché non mi appartengono in maniera diretta, la memoria ce l'ho e quindi l'appartenenza non ho bisogno di documentarla, ecco, quindi lei, perché io parlo volentieri dei nonni? Perché io ho voluto che fossero ricordati tutti e due? Perché secondo me sono due cose che oggi mancano nella società italiana e sono i modelli di comportamento, a chi ci si può rivolgere oggi? Una volta c'era il preside, una volta c'era il professore, una volta c'era il capo dei pompieri, adesso non ci si può fidare nemmeno del capo dei pompieri perché magari si vende o fa qualche cosa che non va, quindi i modelli di comportamento che sono la cosa della quale la gioventù oggi sente necessariamente l'esigenza, ho sentito un discorso simpaticissimo, l'altro giorno dice non ci sono più genitori, non ci sono più adulti, perché anche i genitori bambineggiano, fanno i pupazzetti e i ragazzi a chi si affidano? Allora, ecco, portare due grandi esempi di comportamento, loro, mia nonna si ispirava a Garibaldi, per esempio, il nonno o non so, a qualcun altro, ecco, e i nostri ragazzi a chi si affidano? Allora io cerco di trasmettere loro quello che a me è tanto servito anche per avere voglia di vivere, per sopportare con rassegnazione perché mi hanno spiegato che si può, me l'hanno dimostrato che si può superare ben più di quello che ho superato io e quindi la forza è una cosa che va aiutata anche a essere aumentata invece che indebolita. Adesso siamo tutti stanchi, viviamo così tanto per riposare, io non sono d'accordo, sono battagliera come lei, forse perché ho un po' del suo sangue dato che mio padre era suo figlio. Come hai vissuto il cruento omicidio di tuo nonno, vittima politica della deportazione nazista a Mauthausen? Allora intanto io ho cercato per un anno di sapere come era morto il nonno, siccome a Roma ne sono tornati 5 o 6 di persone, dei quali uno è morto subito, un altro era impazzito, due tubercolosi forti a Bologna si chiamavano, uno mandati a Sondrio in un tubercolosario, quindi ho aspettato che questi tornassero, ne è tornato uno solo dopo un anno e ho chiesto, lui mi ha detto perché vuoi sapere come è morto tuo nonno? Come dire perché vuoi soffrire? Perché tanto dico soffro lo stesso, almeno ho diritto di saperlo ed è lui che mi ha detto che aveva addirittura organizzato una specie di gruppo di questi detenuti per combattere i tedeschi, diciamo così, infatti poi è stato gasato praticamente, questo è quanto, come l'ho vissuta, come si vive quando sai che uccidono in quella maniera un padre che tu hai amato tantissimo. Io questa agenda che è del 1923 la tengo perché c'è la calligrafia del nonno che era la mia passione, perché lui teneva delle contabilità per sopravvivere e quindi mi insegnava come bisognava essere, infatti ho fatto ragioneria io. Qui ci sono degli appunti, quindi si era preso delle frasi francesi perché entrambi i nonni, non so se lo sai, sono stati un anno a Parigi e presso l'Humanité tenevano la pagina degli esuli e hanno incontrato esuli di tutti i tipi italiani naturalmente anche non italiani e la nonna che sapeva molto bene il francese, ha aiutato anche il nonno in quella circostanza a tradurre un libro di Lenin che era scritto in francese e lei traduceva in un linguaggio comprensibile quello che alcuni, se non alfabeti, compagni, contadini, ignoranti, volevano dire dire e allora lei faceva come fai tu, la giornalista e faceva l'ufficio stampa, capisci? Ecco, e questo per un anno, infatti in quella circostanza che ha fatto la foto che c'è nella fondazione. Grazie a tutti!